Amici 3B Meteo, bentornati a questa nuova edizione del TG di 3B. Partiamo con delle immagini davvero particolari. Ci troviamo in Marocco, questo è il deserto del Sahara, in realtà pieno d'acqua. Negli scorsi giorni ha piovuto parecchio in quelle zone, addirittura in 24 ore sono caduti fino a 100 mm d'acqua che in quelle aree desertiche è più del triplo di quanto dovrebbe cadere in un anno intero. Guardate che roba, il deserto allagato e tra l'altro questa alluvione segue a un'altra avvenuta 15 giorni fa sempre più o meno nelle stesse aree. Quindi situazione molto particolare, ennesima dimostrazione che sotto molti punti di vista il tempo ormai sta facendo il matto nell'ultimo periodo. E guardate queste immagini del Satete, quindi ci spostiamo ora a situazione proprio attuale con tante nuvole su tutta l'Europa occidentale, tra l'altro è proprio questa circolazione ciclonica che ha associato il maltempo arrivato anche in Marocco e che adesso piano piano si muoverà anche verso l'Italia. Quindi purtroppo ci attendono nuovamente giornate delicate dalle nostre parti. Schematicamente al momento abbiamo ancora un'area di alta pressione, tra l'altro di matrice subtropicale, quindi fa anche caldo, ad esempio al centro-sud superiamo i 25 gradi, ma nei prossimi giorni questa saccatura si muoverà verso l'Italia portando un netto peggioramento del tempo. E così nei corso giorni questo mercoledì prime piogge sulle regioni di nord-ovest, in estinzione poi anche alle regioni di nord-est col passare delle ore, coinvolte in parte anche la Toscana e il nord della Sardegna. E giovedì il peggioramento prenderà bene tutto il nord Italia, buona parte dell'Italia centrale, specie il versante tirrenico e da venerdì poi le piogge raggiungono anche il sud. Chiudo con le temperature che rimangono diciamo molto miti al centro-sud, da ancora questo mercoledì registriamo punte oltre i 25 gradi, ma da giovedì è atteso una graduale diminuzione. Per sapere però nel dettaglio come andranno le cose da voi e attenzione potremo avere situazioni davvero delicate, aggiornate o scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.